Ciao a tutti, siamo qui oggi a Campi Bisenzio di fronte agli uffici comunali per parlare di una bella iniziativa che come Movimento 5 Stelle stiamo portando avanti. Vogliamo rispondere all'emergenza allusionale che ha colpito la nostra città su un ambito specifico legato al mondo delle autovetture e della mobilità in generale, è stato un disastro con grandi numeri, sappiamo che molti cittadini hanno perso le loro autovetture con ovviamente situazioni a cascata sulla loro qualità della vita. Ecco, noi come Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio vogliamo dare il nostro piccolo contributo e cercare di dare delle soluzioni e delle risposte innovative. Non potevamo fare altro che sposare ovviamente la tesi di efficientamento nei confronti di alimentazioni nuove che vanno contro i vecchi motori endoternici e quindi siamo qui insieme all'assessore del 5 Stelle Davide Baldazzi e insieme al nostro amico e referente Luca del Sillaro per l'associazione Coverso che ci spiegherà che tipo di iniziative possiamo insieme portare avanti per risolvere o dare sollievo a questo problema. Luca? E Coverso è un'associazione che è nata dieci anni fa con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile. Noi creiamo gruppi d'acquisto per auto ibride e auto elettriche, comprando decine di auto in un'unica soluzione possiamo ottenere degli sconti e dei vantaggi che per una sola auto non possiamo ottenere e i nostri associati sanno che con noi risparmiano circa 1000-1500 euro in più rispetto al miglior prezzo che potrebbero ottenere da soli. Per i cittadini di Campi Bisenza in realtà, per tutti i cittadini italiani insomma che hanno perso la propria auto a causa di eventi climatici estremi, alluvioni o altre cose simili, abbiamo deciso di aggiungere un altro pezzo di sconto che deriva dalle nostre provisioni, abbiamo deciso di rinunciare alle provisioni per questi cittadini in emergenza, abbiamo creato una landing page dedicata sul nostro sito ecoverso.org dove tramite tutti gli enti che vogliono e le associazioni che vogliono aiutare e dare sostegno ai cittadini alluvionati potete trovare tutte le informazioni per avere appunto questi sconti aggiuntivi e partecipare e usufruire del maggior risparmio possibile di fronte a una situazione così complicata. Ecco, partecipiamo insieme alla filosofia del gruppo d'acquisto che quindi fa massa critica e fa forza tra i consumatori ma anche un'iniziativa nei confronti di chi è stato alluvionato insomma della calamità che ci ha colpito perché in fondo non viene visto l'aspetto diciamo di mero profitto ma di una forma di donazione nei confronti diciamo di uno scontro dedicato, di iniziative dedicate per la popolazione che ha subito danni. Penso che sia un'iniziativa importante e interessante perché guarda il mondo dell'elettrico e quindi come dicevo prima in contrapposizione a tutto quello che sono i vecchi motori endotermici che alimentano le emissioni di CO2 e quindi come sappiamo alimentano anche i cambiamenti climatici che poi insieme ad altri fattori creano disastri e emergenze climatiche di questo tipo. Doni possiamo concludere che quando c'è da mettere insieme priorità ambientali e solidarietà il Movimento 5 Stelle c'è come c'è sempre stato? Bene, assolutamente c'è.